Siamo qui per il progetto Siorto, tecniche per un'orticoltura a basso impatto ambientale. Siamo ad Astro Innovazione e Sviluppo nell'unità operativa Martorano 5 e questo è un campo di confronto sovesci funzionali soprattutto all'aumento della nutrizione del terreno e proprio all'apporto di sostanze nutritive per la cultura successiva, intesa come cultura orticola. È stata una semina autunnale, quindi il ciclo è autunno-vernino con semina di metà di ottobre e una fioritura in questo momento, quindi dei primi di aprile. L'interramento, la trinciatura e il successivo interramento dei sovesci è previsto appunto al momento della fioritura perché è l'apice massimo di sviluppo della biomassa, quindi è il momento in cui noi possiamo trinciare e apportare tutti i nutrienti di questa tecnica che è estremamente utile in sostituzione o ad integrazione di tutte quelle che sono le concimazioni minerali. Allora, che cosa abbiamo messo in prova? Abbiamo messo in prova un risultato molto interessante di una precedente programmazione, quindi di un goi precedente che prendeva il nome di Orto BioWid, dal quale avevamo ottenuto un miscuglio molto interessante con una presenza di orzo, una presenza di rafano e una presenza di favino, quindi le tre classiche famiglie impiegate per i sovesci a nutrizione completa, quindi le brassicacee, le graminacee e le leguminose. Partendo, diciamo, da questo miscuglio che presentava un quantitativo di investimento ad ettaro approssimativo sui 130 kg ad ettaro, abbiamo provato a proporre il medesimo miscuglio ma abbassando le dose di investimento del seme ad ettaro, proprio per andare magari incontro all'agricoltore e vedere di moderare quelli che possono essere i costi di impiego del mezzo tecnico, valutando ovviamente se hanno una stessa efficienza ed efficacia nutrizionale. Poi abbiamo messo a confronto delle brassicacee in miscuglio e in purezza, e quindi abbiamo un rafano in purezza e un miscuglio costituito da senape bianca, senape bruna e rafano, proprio per riuscire a capire come queste culture in purezza si comportano nei confronti dell'apporto di azoto nitrico, quindi a pronta disposizione per la cultura successiva, perché nella precedente progettazione avevamo verificato con analisi del suolo che le brassicacee sono importanti colture che apportano azoto nitrico al terreno, quindi azoto a pronta disponibilità. Arrivati alla fase di piena fioritura, quindi vediamo che a livello di biomassa abbiamo delle biomasse molto importanti, quindi siamo molto soddisfatti rispetto anche ovviamente alla tipologia di terreno. faremo una verifica sulla presenza della specie, quindi sui miscugli vedere in quale percentuale la specie che è dichiarata poi è presente sulla biomassa totale, preleveremo un campione e lo manderemo in laboratorio analisi per verificare quali sono le unità di macro e micro elementi potenziali presenti all'interno del sovescio, successivamente faremo anche dei rilievi al terreno a una distanza di 20-40 giorni per riuscire a vedere nella soluzione circolante che cosa ritroviamo e quindi che cosa questo sovescio mette a disposizione della cultura successiva. Qui possiamo vedere delle altre essenze in purezza o in miscuglio. Questo per noi è semplicemente un campo dimostrativo. Ci sono delle essenze che abbiamo messo in altre località e in altre zone, perché ovviamente l'azione specifica all'interno del progetto non prevedeva solo il campo a Martorano 5, ma prevedeva anche la semina di un campo autunno-vernino in località Mesola che aveva come obiettivo principale l'attività biocida del terreno e quindi la gestione integrata dei nematodi. Il campo è già terminato e abbiamo seminato la settimana scorsa i due campi primaverili, uno in zona Mesola e uno in zona Bolognese, perché i cicli primaverili assieme a quelli autunno-vernini sono i due cicli principali per poter utilizzare queste colture. Riteniamo comunque che lo sviluppo del sovescio, delle cover crop, sia importante per un'orticoltura a basso impatto ambientale. Abbiamo parlato di nutrizione del terreno e abbiamo parlato di gestione integrata dei parassiti del terreno. Non dimentichiamoci mai il fondamentale apporto alla ricostruzione della struttura del terreno che potrebbe essere interessante, ad esempio, in caso di terreni alluvionati. Ultima ma non ultima, abbiamo sempre parlato di nutrizione alla cultura successiva, non dimentichiamo mai quello che è l'apporto di sostanza organica al terreno. Quindi con un sovescio o una cover crop noi possiamo andare nel lungo periodo, quindi introducendola all'interno di quella che è la gestione della rotazione aziendale, possiamo andare ad aumentare la quantità di biomassa apportata al terreno che poi verrà digerita e verrà più o meno lentamente o velocemente trasformata in sostanza organica e permetterà di aumentare quel livello di qualità del suolo che negli ultimi anni ha subito un pesante decremento dovuto a coltivazioni successive abbastanza importanti e abbastanza impattanti per il terreno. Quando trinciare e come interrare? Allora, la trinciatura va fatta tecnicamente nel momento di fioritura per avere la massima biomassa. Può essere fatta trinciatura se la biomassa è molto ampia e successivamente interramento. È una cosa che noi consigliamo perché così la biomassa riesce a perdere un po' di acqua e l'interramento può essere fatto con una lavorazione più o meno superficiale diciamo intorno ai 15-20 centimetri. È più che sufficiente. La biomassa non dovesse essere molto grande perché la trinciatura deve essere anticipata per eventuali trapianti precoci può essere fatta anche non esattamente in fioritura e può essere fatta contemporanea all'interramento laddove noi vogliamo utilizzare a pieno l'attività diciamo nematocida che hanno gli isotiocianati contenuti all'interno delle brassicacee. Quindi in quel caso è meglio trinciare e interrare in successione oppure contemporaneamente trinciare e interrare e sarebbe meglio anche in previsione di pioggia in quanto l'acqua è un attivatore di queste diciamo molecole biocide.